Com'è? Salve salvo! Voglio esercizzare! Ciao Cosma! Ehi Damiano! Che è successo? Stai zitto non lo dirai a me! Tu me l'hai chiesto! Che cosa hai? Stai zitto non lo dirai a me! Tu me l'hai chiesto! E tu che hai? Lasciatica! E a chi lo dici? A te a chi lo devo dire? No non hai sentito chiesto che cos'hai? Lasciatica! A chi lo dici? A te a chi è che lo devo dire? Facci una volta stasera! Vabbè perché io ho lasciato eh!